mattina se io non ti volevo male un'altra volta quando ci siamo dati appuntamento ma io ti dicevo vieni che c'erano le altre nonne che ti volevano fare male poi c'è male che non mi direi più, ti ricordi? si, hai detto che ti ho racconto che io non mi devo più sentire il tuo figlio e che quindi non l'ho mai più sentito mattina! cioè il fatto di... cioè allora io non ho visto nessuno, non ho visto nessuno, non ho visto nessuno cioè quindi io voglio sapere neanche io però ti accontentarti e chiederti se tu volevi ancora fare la denuncia se volevi fare la denuncia, così mi avrei detto che non ce l'era e i bambini dei libertanti dicono ancora che tu sei la bani e che vai ancora con i bambini 12 anni ma io non ho sicuramente quello, non ho visto nessuno però mattina, tu lo sapevi che non avevo 10 anni i bambini? no, io non l'ho fatta nulla io voglio sapere se tu sei pentita di tutto questo che hai fatto, se devo fare la denuncia o no io sono molto vicino, è tutto quello che è successo però le altre cose non sono vere, non sono come sono andata come attendo a che sono andata ma che sono le cose non vere, mattina? non so, questo che ti ho raccontato non è vero e non è vero nemmeno che ti chiamo c***o e non è vero che i bambini che avete in giro e che no che non ho fatto i documenti e non ho scoperto il tuo nome, è vero? no, mi rubassi, mi rubassi invece di un giro, no? mi hanno derubato e mi lasciato e ti fai chiamare i bambini 12 anni? ti fai chiamare di mattina? io non mi faccio di mattina, a me non chiamano più mattina perché tu hai detto che sei la schietta di tutti? detta fametta, tu sapevi che i bambini avevano 12 anni? no, io non ho fatto niente con loro e il video che c'ho io? io non so, sei iniziale, ti vede molto il c***o di io ma io non lo so questi video e ci possiamo vedere da qualche parte? ma io non c'è un po' di adesso non vedo più nessuno, io non c***o no, 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 no cioè, non vedo il c***o io volevo... allora io dai ragazzi del diventore quelli che mi hanno decontato e che sono stati molto violenti quella sera e ci ho anche le trovo che mi hanno decontate, che mi hanno postate mi hanno fatto vedere le cose perciò me le hanno ripostate e non c***o le trovo di questa cosa non le faccio ulteriori minacce quindi se tu mi denunci tutte queste maschettite se lo fai di minacce, pare andranno avanti te ne vado in c***o, eh? sicuramente te ne vado in c***o, eh? perché hai bruciato di bambini di 12 anni comunque come stai ora? io non sto bene io vorrei cercarmi di mettere una pietra sopra tutte di... ehm... ancora farò la brucia siccome tu mi permettessi a me ti ricordi quando abbiamo parlato che tu non facevi entrare più da minacce in 12 anni? e ora che non ci hanno lasciato a tu? e se ti risulta che io mi sono troppo no, dindici perché io non ho mai visto nessuno Martina! io ti amo c***o in canta e per mi c***o io ce la mi detramata con c***o e tutti i masturbi vicino a lui io non lo so ma mi detramate con c***o io sono stati in cima di pagare con te io e dopo... un po' che ho parlato con te io c***o non la metto sentita c***o ma a 12 anni lo sai tu? c***o a 12 anni ma a 12 anni c***o a 12 anni c***o a 12 anni sono tutti 2009 siccome tu quando entravano i bambini non chiedevi nemmeno i documenti giustamente perché loro non è che hanno i documenti addosso no, ma che ti prendevano in giro dicendoti che avevano 14 anni ma in effetti tu un bambino di... di 12 anni tu ti raccorgi se hai 12 anni o no? ma questa cosa c***o ha 14 anni e si qualsiasi bambino che conviene che c'ha 14 anni invece ha 12 anni se fosse stato al posto tuo un maschio l'avrebbero già impiccato a me dispiace questa situazione c'era lì però da qui a chiamarmi a questa qui o cose così io non ho mai fatto questo non ho mai buscato nessuno io ci tieni giro forse il normale a bambino tu hai fatto il normale tu hai fatto il normale Martina io ho la testa dove andate a fare la denuncia ce l'ho ancora non ce l'ho io tutte le mamme Martina ci hai un po' pentita o no? io non ho mai insomma ma ti dico per farmi questa domanda a un po' ora adesso perchè io questo momento non mi sento molto io mi no a me tantamente non c'ho qui mi senti mi senti dire da te? signora mi sono pentita di tutto quello che hai fatto scusami io faccio il percorso di quello che hai detto io ti sto dicendo soltanto se tu ti sei mentita ti sei mentita minimamente di quello che hai fatto e basta come vado a pensare tu? scusami non lo devi fare più Martina me lo prometti? si